In corso Garibaldi a Bastola, trafficatissima arteria che conduce al centro cittadino, un albero, nonostante non sia stato attaccato dal punteruolo rosso, insetto killer che sta uccidendo diverse palme in città, ha perso un grande ramo che è finito a terra, fortunatamente nel momento in cui il marciapiede era libero. Quell'albero è pericoloso e dal comune dovrebbero decidere di collocare nella zona, ha dichiarato un vastese, un cartello che avvisi i passanti del pericolo di caduta dei rami e bisognerebbe alleggerire la pianta. Un bambino è passato poco dopo la caduta del ramo, ma se fosse passato un attimo prima sarebbe stato un dramma. Quella parte di strada è solitamente molto frequentata, sia per la presenza di una farmacia che di diversi negozi, ed è proprio a pochi passi dalle strisce pedonali. Grazie